La donna aveva il cranio fracassato, indaga la procura, non si esclude alcuna pista dalla rapina finita male all'aggressione per motivi passivi. Tifoso morto arrivano i Daspo, sette provvedimenti emessi dal questore di Milano dopo gli scontri prima della partita tra Inter e Napoli. Intanto Salvini dice no, la chiusura degli stadi ribadisce, giusto continuare a giocare. Porti Campania, bene Napoli, Salerno tiene i dati dell'autorità di sistema del terreno centrale sui primi 11 mesi dell'anno. Cresce ovunque il comparto croceristico mentre Salerno arranca sul traffico commerciale il presidente Spirito vicino al traguardo storico del milione di container movimentati. Passore ucciso è stata una vendetta svolta nelle indagini sull'omicidio di Frasso Telesino in provincia di Benevento, in Manette un Sannita e un Casertano. La vittima aveva scontato una condanna per abusi su una ragazza a 15enne ma il caso non è chiuso, si cerca ancora il killer. Rister Regione rimpasso a Napoli, in consiglio regionale ha approvato il bilancio ma è bagarre tra l'esponente 5 Stelle Saiello e il governatore De Luca. Intanto De Magistris rimescola le deleghe a Palazzo San Giacomo e tiene per sé la responsabilità del settore trasporti e mobilità. Fucilate in Irpinia, ipotesi racket. Colpi di fucile contro la vetrata di un mobilificio di pietra defusi, il titolare smorza l'allarme ma è subito minacce, pensiamo a una bravata. Sul caso indagano i carabinieri di Mirabella. Erano questi i nostri titoli, buonasera e ben ritrovati con l'informazione del canale 696. E' stata ritrovata morta in strada con il cranio fracassato, si indaga a Falciano del Massi con il Casertano, vittima a una 63enne. La procura ha avviato le indagini, non si esclude alcuna pista dalla rapina finita male all'aggressione per motivi passionali. Vediamo il servizio. Il cadavere di una 63enne, Concetta Salomone, è stato ritrovato in un vialetto a Falciano del Massico e a Caserta, a poca distanza dalla sua abitazione. La vittima presentava feriti alla fronte ed è stata trovata immersa in una pozza di sangue. Sembra che qualche ora prima del decesso la donna avesse litigato con il marito. I carabinieri però non escludono alcuna altra ipotesi, dalla caduta a una rapina finita male. La donna giaceva in una pozza di sangue con una profonda ferita al cranio e quando sono arrivati i soccorsi non si è potuto fare altro che riscontrare il decesso. Non sono chiare le circostanze che hanno portato alla morte e non si esclude al momento alcuna pista. La donna potrebbe essere stata colpita da dei malviventi alla ricerca di una refurtiva o molto più semplicemente cadendo ha sbattuto il cranio. I primi accertamenti sono volti a rilevare eventuali segni di furto e alla ricerca di un corpo contundente che potrebbe essere l'arma del delitto in caso di omicidio. A scoprire il cadavere una vicina che stava rientrando nella propria abitazione nei pressi di Piazza San Pietro. Sempre i vicini avrebbero udito delle urla provenire dall'abitazione da cui, a quanto pare, si erano allontanate le due figlie della coppia a causa dei rapporti conflittuali con il padre. Intanto la procura di Santa Maria Capoavetere ha aperto un'inchiesta e ha ordinato l'esame autoptico. Sta ascoltando alcuni parenti e amici, ma a quanto pare del marito ancora non c'è traccia. Sono sette i daspo nei confronti dei tifosi interisti coinvolti negli scontri tra ultra avvenuti alla vigilia di Inter-Napoli la sera di San Silvestro. Intanto su caso il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha detto che chiudere gli stadi è un errore annunciando a inizio anno degli incontri con i tifosi. Continuano i provvedimenti della questura milanese in seguito ai violenti scontri tra ultra avvenuti la sera del 26 dicembre prima della partita Inter-Napoli. Il questore di Milano, Marcello Cardona, ha emesso sette provvedimenti d'aspo a carico di altrettanti ultra interisti. Nove gli indagati e tre gli arresti per lesioni e rissa aggravata. Per Cardona si sarebbe trattato di un agguato in piena regola, un assalto pianificato, quello ai tifosi del Napoli incolonnati in auto in via Novara, due chilometri dallo stadio San Siro. A metterlo in atto un centinaio di ultra dell'Inter supportati da tifosi del Varese e del Nizza, loro gemellati. Nella confusione è stato investito e ucciso il 35enne oltra dell'Inter Daniele Belardinelli. La procura di Milano ha aperto un'inchiesta, ha aperto un secondo fascicolo, poi sulla morte del tifoso investito. Problemi che sono continuati anche durante lo svolgimento della partita, con insulti razzisti al giocatore del Napoli, Coulibaly. Per lui il consigliere comunale di maggioranza napoletano Nino Simeone ha proposto il conferimento della cittadinanza onoraria di Napoli. Intanto il ministro dell'Interno Matteo Salvini sulla vicenda ha detto che è giusto non fermare il campionato, neppure davanti ad episodi simili, che le partite a rischio non si giocheranno più in notturna, annunciando a inizio anno un tavolo con le tifoserie organizzate. Si è accasciato al suolo ed è morto durante un'escursione. Tragedia ad ospedaletto lungo la strada che porta ai boschi di Montevergine. È successo all'altezza del sentiero dei Pellegrini. La vittima è un cinquantenne di Avellino, l'uomo era in compagnia di alcuni amici e stava raggiungendo il santuario di mamma schiavona per prendere parte alla Santa Messa quando improvvisamente ha avvertito un malore. Mediato l'allarme sul posto sono giunti sanitari del 118, i quali hanno cercato di rianimarlo, ma senza esito alcuno. Continuano a crescere i porti della campagna. Secondo i dati diffusi dall'autorità di sistema, Napoli e Salerno fanno registrare numeri da record nel settore croceristico, mentre nel comparto commerciale Salerno segna il passo vicino al traguardo storico del milione di container. Vediamo. La portualità campana è in salute e lo dimostrano i dati diramati dall'autorità di sistema del tirreno centrale nei primi 11 mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo precedente. Numeri positivi ed in crescita sia per quanto riguarda i flussi croceristico che commerciale. Ma andiamo con ordine. Il bollettino mensile consegna un aumento del 15,4% con ottime performance sia a Napoli che a Salerno, con quest'ultimo che fa meglio del principale porto regionale. In crescita anche il traffico passeggeri che sfiora il 2% e dei traghetti con un più 5,7%. Fin qui il comparto turistico. Bene anche però il settore commerciale con il numero dei contenitori in aumento del 5,4%, anche se in questo caso le performance di Napoli e Salerno divergono radicalmente. Se Napoli cresce del 13%, infatti, Salerno fa registrare una flessione di poco meno del 3%. Insomma, per l'autorità di sistema, è ormai alla portata il traguardo storico del milione di container movimentati negli scali regionali. Per il presidente Pietro Spirito, quello che si sta per chiudere è stato un anno molto positivo per i porti della Campania, sotto il profilo del dinamismo di mercato. In primavera sarà completato il dragaggio di Napoli, mentre bisognerà attendere novembre per far partire quello di Salerno. Spirito ha ribadito l'importante della cooperazione strategica tra i porti campani, incluso Castellammare di Stabbia. Giudizio in chiaro scuro per Salerno, con il presidente Agostino Gallozzi, che sottolinea la tenuta dello scalo della città di Arechi, nonostante il mancato avvio dei lavori di riqualificazione, che, dopo anni di attesa, dovrebbero essere finalmente all'orizzonte. Avvenimento svolta nelle indagini per l'omicidio di un 45enne ucciso a colpi di pistola un mese dopo essere uscito dal carcere dove aveva scontato una pena per abusi su una ragazzina. Vediamo il servizio. Giuseppe Massaro, 55 anni, di Sant'Agata dei Goti e Generoso Nasta, 30 anni, di San Felice a Cancello, da questa mattina sono in carcere per l'omicidio di Giuseppe Matarazzo, il 45enne pastore di Frasso Telesino, ammazzato con due colpi di pistola. Lo scorso 19 luglio dinanzi alla sua abitazione di Frasso Telesino, nel Sannio. Si tratta del proprietario dell'auto utilizzata, secondo l'accusa per raggiungere la zona, e l'autista di quella Fiat Croma, vista poi allontanarsi da una persona del posto, che ha subito collaborato con i carabinieri. Il veicolo è localizzato dal GPS proprio di fronte all'abitazione della persona uccisa. Subito dopo inizia una corsa veloce nel rientrare a Sant'Agata dei Goti e si imbatte in un cittadino che nota il particolare di questo veicolo con la targa coperta da del nastro adesivo o comunque dello spray colorato. Matarazzo era stato ucciso a distanza di un mese dal momento in cui era uscito dal carcere. Dopo aver scontato una condanna a 11 anni e 6 mesi perché riconosciuto responsabile di abusi su una quindicenne, che il 6 gennaio del 2008 si era però tolta la vita impiccandosi ad un albero. Bagare in consiglio regionale durante il voto per la legge di stabilità 2019 il consigliere 5 Stelle Saiello si è scagliato contro De Luca. La manovra passa con 28 voti favorevoli, ma vediamo com'è andata nel servizio di Rossella Strianese. Caro Passariello, ti stavo dicendo il reddito di cittadinanza. Ha rischiato di farsi sbattere fuori dall'aula del consiglio regionale l'esponente dei 5 Stelle, Gennaro Saiello, che si è scagliato contro Vincenzo De Luca mentre quest'ultimo stava criticando la manovra finanziaria del governo pentaleghista. Saiello si è avvicinato minaccioso al governatore ed è stato necessario intervenire fisicamente per fermarlo e riaccompagnarlo al suo posto, tra urla e resistenze. Il presidente del consiglio regionale, Rosetta D'Amelio, ha cercato di riportare l'ordine ma alla fine ha dovuto minacciare Saiello di espulsione dai lavori del consiglio. De Luca, che stava parlando del piano di edilizia ospedaliera, ha definito il gesto del consigliere Grillino come l'ennesimo atto di squadrismo e maleducazione. Un brutto siparietto che ha portato tensione e malumore in un'aula già approvata da ore di consiglio riunitosi ad oltranza oggi per l'approvazione della manovra finanziaria regionale. Il governatore non intendeva correre rischi e ha messo la fiducia sul maxi emendamento alla legge di stabilità 2019. Alla fine ha portato a casa il risultato con 28 voti favorevoli. Il consiglio ha inoltre approvato il bilancio di previsione del consiglio regionale per il triennio 2019-2021. Tra le misure inserite spiccano lo stanziamento di 500.000 euro per ciascuno dei tre anni per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla camorra, l'autorizzazione della spesa di 500.000 euro per supportare i comuni e consentire il completamento dei procedimenti di redazione dei piani urbanistici, un contributo di 3 milioni di euro al consorzio di bonifica Sannio Alifano e di 3 milioni al consorzio Aurunco, inseriti infine nel maxi emendamento anche gli interventi di ricapitalizzazione della SMA Campania per 28 milioni di euro e della società Campania Ambiente e Servizi per 6 milioni e mezzo. A Napoli il sindaco Luigi De Magistris ha proceduto a una riformulazione delle deleghe. Lo ha annunciato lo stesso primo cittadino in apertura di consiglio comunale. La novità riguarda il settore trasporti e mobilità, fino ad oggi affidato all'assessore Mario Calabrese, ma che Dema ha deciso di tenere per sé. A Ciro Borrello la delega al verde cittadino. Cambiamenti che preludono all'affidamento di alcune deleghe a consiglieri comunali, procedura contestata da tempo dalle forze di opposizione in consiglio. Ancora cronaca, ha messo le proprie responsabilità, ma non ha spiegato il movente. L'assassino Reo Confesso di Baronissi, Vincenzo Maiacano, è accusato di aver ucciso a fucilate Biagio Capacchione. L'ipotesi di reato è omicidio volontario, ma ci sono ancora alcuni aspetti da chiarire. Nelle prossime ore l'autopsia sul corpo della vittima. Intanto potrebbe essere contestata anche l'aggravante della premeditazione. Vediamo il servizio. È rinchiuso in una cella del carcere di Salerno Vincenzo Magliacano, il 57enne di Baronissi, accusato di aver ucciso Biagio Capacchione con due colpi di fucile. L'aguato è scattato ieri mattina intorno alle 7.30 davanti all'abitazione della madre del titolare dell'officina meccanica. Il presunto assassino è stato rintracciato in un casolare nella zona montuosa di Baronissi, dove si era rifugiato in stato confusionale. Con sé aveva ancora il fucile regolarmente detenuto, col quale ha ferito mortalmente Capacchione. Condotto in caserma, ai carabinieri, al sostituto procuratore Angelo Rubano, titolare dell'inchiesta condotta dalla procura di Nocere Inferiore, ha ammesso le proprie responsabilità. Magliacano ha confessato di essere stato lui a sparare, anche se non ha giunto oltre e non ha ancora chiarito il movente che lo ha spinto. In paese si parla di vecchi dissapori. Al momento l'accusa contestata è di omicidio volontario, ma non è escluso che possa aggiungersi anche l'aggravante della premeditazione. Dal prossimo interrogatorio di garanzia potrebbero emergere altri dettagli utili all'indagine. L'ipotesi più probabile è che l'agguato sia arrivato al culmine di una lunga storia di screzi e problemi legati a motivi lavorativi tra due imprenditori impegnati nel settore delle officine meccaniche e delle rivendite di auto. Intanto, nelle prossime ore in programma l'autopsia sul corpo della vittima, anche se ci sarebbero pochi dubbi sulle cause del decesso. Fatali i proiettili che hanno colpito Capacchione alla testa e all'addome. Prima di essere trasportati in ospedale, dove poi espirato, l'imprenditore 63enne aveva detto alla moglie che a sparare era stato proprio Magliacano, rintracciato dai carabinieri poche ore dopo il fatto di sangue. Colpi di fucile contro la vetrata di un nuovo elificio di pietra defusi. L'episodio è avvenuto tra la notte di Natale e Santo Stefano, ma i proprietari solo oggi si sono accorti dell'episodio. Il proprietario, pensiamo ad una bravata, in tanti anni di attività non c'è mai accaduto nulla. Sul caso indagano i carabinieri di Mirabella. Una sventagliata di colpi contro la vetrata del mobilificio di pietra defusi sono stati esplosi tra la notte di Natale e Santo Stefano. Una decina di fori scoperti dal titolare solo dopo qualche giorno dal fatto. L'episodio è accaduto nell'area PIP del comune di pietra defusi. Il bersaglio e il mobilificio Monteforte, un'attività che allunga i radici nel tempo e che nella zona rappresenta un vero e proprio punto di riferimento. Ad allarmare i proprietari sistema di allarme, il titolare si è precipitato sul posto ma non ha notato nulla di strano ed è andato via convinto di un guasto all'impianto. Il giorno dopo, nuovo controllo per scrupolo di imprenditore accorto, ma nessun particolare lo aveva colpito. Poi, quando l'attività è ripresa in pieno e le tende delle vetrine sono state spostate per le pulizie, ecco la sorpresa. Decine di fori di proiettili in tutte le vetrine. Per il titolare del mobilificio si tratta certamente di ragazzi, di una bravata. In tanti anni di attività mai visto nulla del genere, commenta. Non pensiamo male di nessuno e siamo convinti che sia stato un gesto di ragazzi presi dai fumi dell'alcol. Ma se può essere racket, uno scherzo, lo potranno dire solo le indagini avviate dai carabinieri di Mirabella e Clano che indagano sul caso. Saranno visionate anche le telecamere di sicurezza installate nella zona, anche se l'area PIP resta poco illuminata. I militari hanno ascoltato comunque il proprietario e i figli per capire se dietro al gesto ci sia una mano criminale. Ma al momento nulla porterebbe ad un gesto intimidatorio. Chiuso da cento settimane lo stadio Collana di Napoli nel mirino dei consiglieri della quinta municipalità che hanno organizzato un flash mob di proteste e chiedono un incontro pubblico con la regione. Vediamo. C'era una volta lo stadio Collana. Oggi è il fantasma di un campo di calcio. Pista di atletica distrutta, spalti patiscenti, palestre devastate, tanta erbaccia e degrado. Prima inserito tra gli impianti delle universiadi, il Collana è stato cancellato dall'elenco delle strutture da rimettere a posto perché nel frattempo il Consiglio di Stato ha riconosciuto l'affidamento ad una società privata dopo anni di contenzioso con la regione. Contro questa situazione che va avanti da troppo tempo, stamane sono scesi in piazza i consiglieri della quinta municipalità che non vogliono far calare l'attenzione sullo stadio, unico centro di riferimento per centinaia di sportivi del Bomero. Perché sono cento settimane che lo stadio è chiuso, una lunghezza assolutamente incompatibile con quelle che sono le esigenze degli sportivi e per questo siamo scesi in piazza per dire alla regione deciditi o l'impianto lo dai ai soggetti concessionari oppure se ne ritieni che non siano in grado di gestirlo, di passare la mano e riprendere i lavori che erano già iniziati con i fondi delle universiadi. Abbiamo lavorato su tutti i fronti, sia in regione dal punto di vista del movimento ma anche in Parlamento, abbiamo fatto un'interrogazione parlamentare di cui aspettiamo risposta dal sottosegretario Giorgetti. Anche in municipalità ci siamo attivati tantissimo insieme in modo trasversale uniti. Il 4 dicembre scorso abbiamo approvato un ulteriore documento e abbiamo chiesto un incontro pubblico che veda a Tori tutti, la regione, il comune e anche l'Atili sportivi per poter capire tutti insieme dov'è l'impedimento perché è una situazione vergognosa che uno stadio come questo che significa aggregazione, salute, benessere per una comunità sia chiuso al 25 gennaio. Sono due anni che l'impianto è chiuso ed è una situazione indecorosa. Il Ministero dell'Ambiente ha dato l'ok al progetto di ricerca petrolifera nel Vallo di Diano. Insorgono le comunità locali salernitane che si preparano all'ennesima battaglia a difesa del territorio. Non solo Irpini e Sannio, anche nel Salernitano potrebbero arrivare a breve le trivelle petrolifere. Il Ministero dell'Ambiente ha dato il via libera alle istanze avanzate dalla Shell per effettuare le ricerche nel sottosuolo dell'area di Monte Cavallo in località Pignola e La Cerasa del Vallo di Diano al confine tra Campania e Basilicata. Si tratta di un ulteriore tassello che rischia di disattendere le aspettative di chi amministratori, residenti e associazioni da tempo è in lotta per dire no alle trivellazioni. Il disco verde è arrivato dalla Commissione Tecnica del Dicastero Romano per la quale non ci sarebbero controindicazioni alla richiesta avanzata dalla multinazionale del petrolio. Rilasciate solo alcune prescrizioni ma la sostanza è che dal Ministero è arrivato il via libera e riconosciuto gli studi presentati dalla Shell definiti non rilevanti con eventuali effetti cumulativi per i progetti limitrofi. Stop invece alle stazioni di rilevamento sismico passivo nelle aree ambientali salvaguardate e inquadrate come sito di interesse comunitario o parco regionale. Il territorio si prepara dunque alle barricate. Il Presidente della Comunità Montana, Vallo di Diano ha sottolineato in una nota che la decisione è stata presa nonostante i pareri contrari da parte delle regioni Campania e Basilicata oltre che delle altre realtà del Vallo di Diano. Insomma, il nuovo anno si prefigura sulla falsa riga di quello che si sta per chiudere una battaglia ambientale a difesa del territorio per dire no alle perforazioni petrolifere nel Vallo di Diano. Scongiurata a Benevento la riduzione delle corse del trasporto pubblico urbano questo pomeriggio l'incontro tra sindacati ed azienda a Palazzo Mosti presenti anche alcuni comitati di cittadini. Servizio ripristinato rientra a Benevento lo stato di agitazione dei sindacati per la riduzione delle corse degli autobus urbani attuata nei giorni di festa. Tutto regolare per le prossime festività questa è la decisione al termine di un incontro a Palazzo Mosti tra la trotta Mobility che gestisce il trasporto pubblico locale i sindacati ed il sindaco Clemente Mastella riunione alla quale avevano partecipato anche i rappresentanti dei comitati di quartiere. Hanno accettato la mia proposta di soprassedere quindi come tale si ripristino le condizioni che c'erano precedentemente quindi sia a Cavodimonte che altrove poi dal 9 si discuterà sul piano tecnico tra sindacati e azienda per vedere come rimodulare al meglio possibile perché va evitato una cosa che crea non soltanto far ragione del servizio ma crea un'incertezza sul piano finanziario se è un autobus non ci fa nessuno evidentemente va eliminato questo sarà la capacità del sindacato e la capacità dell'azienda di lavorare assieme e con la mediazione per quanto mi riguarda direttamente del comune creerà una cosa che salvaguarda la dignità dei cittadini di Benevento Mastella ricorda il lavoro svolto e guarda le prossime organizzazioni per il servizio nel 2016 fino al 2016 eravamo nelle peste cioè non fosse stato trotto io che avessi fatto quella sorta di gara camminavo tutti i bandi a piedi fino ad ora il servizio è stato assicurato è stato garantito sarà garantito anche ulteriormente perché il comune ci mette una cifra quindi per tutto questo quindi questa è anche la forza che ha nel comporre vertenze e situazioni poi voi sapete che insomma ci sarà una gara regionale che è stata già in pre-gara cioè senza che partita e questa gara stabilirà le condizioni per cui Benevento Avellino andranno assieme il ricordo di Gennaro Passaro uomo e intellettuale al circolo della stampa l'incontro per parlare di uno dei maggiori esperti di storia locale che della ricerca fece scelta di vita vediamo il professore Gennaro Passaro è memoria viva nel cuore di tanti fine intellettuale, istancabile ricercatore e catalogatore studioso attento, preparato, metodico, scrupoloso Gennaro Passaro nutriva quell'autentico culto per le fonti storiche che lo hanno reso una figura cruciale degli studi di letteratura locale e non solo uomo mite, riservato e autentico restò sempre ieri nel circolo della stampa di Avellino lo hanno ricordato amici e studiosi a quasi due anni dalla scomparsa nell'organizzare l'evento odierno io veramente ho scoperto una persona che ha lasciato dietro di sé una scia, una scia profonda nelle persone che l'hanno frequentato dall'archivio di Stato, dalla biblioteca provinciale dal centro di ricerca Guido d'Orso al nome di Passaro vedevo i volti delle persone veramente illuminarsi ha molto lavorato per il ripristino peraltro in una sede storica bellissima a Nusco della biblioteca è stato direttore della biblioteca di Nusco e bisognerebbe andare lì per capire un po' di più di Gennaro Passaro una vita la sua spesa per la ricerca instancabilmente come ricorda l'amico sodale Fausto Baldassarre Gennaro Passaro prima di essere un professore uno studioso è stato un fraterno amico un amico possiamo dire di tutti perché chi è amico della verità è amico di tutti dobbiamo essere tutti grati a questa persona per tutto quello che ha fatto e che ha lasciato come l'aratro lascia il solco lui ha lasciato un grande solco di ricerca di studio e di amore Al via ieri sera a San Giorgio la Molara in provincia di Benevento la manifestazione Natale alla Terra evento dedicato a storie e tradizioni locali realizzato dalla Proloco con il patrocinio del Comune Due giorni alla riscoperta di antichi sapori a San Giorgio la Molara nel Sagno con la manifestazione Natale alla Terra evento realizzato dalla Proloco con il patrocinio del Comune che ha preso il via ieri sera e proseguirà anche oggi nei vicoli del centro storico illuminati per l'occasione offrendo ai numerosi visitatori un viaggio affascinante alla scoperta della storia e delle tradizioni locali Ciò che per 24 anni è andato avanti non è tanto la manifestazione in sé ma il senso di appartenenza che muove i volontari che poi la realizzano manualmente ed è la cosa più bella e appropriamoci del nostro centro storico per forza di cose un po' in disuso un po' disabitato ce ne appropriamo e all'interno mettiamo ciò che più ci rappresenta e l'aspetto culinario è molto rappresentativo di tutte le comunità ogni comunità anche di una ricetta diciamo così che può essere ritenuta regionale ha le sue caratteristiche Quest'anno l'evento è stato inserito all'interno del cartellone di Welcome to Sagno 2018-2019 come accade ormai da 24 edizioni sono numerosi visitatori che arrivano anche dalla provincia di Napoli per partecipare alla manifestazione Questo consente tutti gli anni di questi periodi e porta a tutti i visitatori intorno perché Natale a terra ormai è spedito e quindi è conosciuto nell'interlande anche napolitano regionale e quindi fa enormemente piacere questo E con quest'ultimo servizio il nostro telegiornale termina qui grazie a tutti per averci seguito e un buon proseguimento di serata Grazie a tutti Grazie a tutti